Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice creator. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video! Io sono XIUDER e ragazzi, parapapà, parapapà, abbiamo sbloccato colore del drago bordeaux della fase di ibrido. Guardatevelo qua ragazzi, andiamo a vederlo, andiamo a vederlo nel dettaglio raga. Tanta, tanta, prot! Non cambia la forma ma cambia il colore ragazzi e devo dire che anche il colore degli occhi diventato viola è veramente tanta, tanta roba ragazzi. Non si sapeva, ah! Gli si vede già ragazzi la cresta in mezzo alle corna verde, non è cambiato nulla, anche la parte di fianco e diciamo che il lucertolone prende un colore davvero molto molto figo. Ci tenevo a farvelo vedere in alta definizione, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo presto! Ciao!